Salve a tutti ragazzi della ZWX e in questo nuovo video vi mostrerò la nuova super di nome ProGMP 1 Uscita oggi su GTA Online con il DLC stand da capogiro veicoli speciali Al solito ragazzi prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su Grazie a tutti quelli che schiacceranno quel mitico puzzante Insomma ragazzi, quest'auto la possiamo acquistare su Legendary Motorsports al prezzo di 1.260.000 dollari Fortunatamente nemmeno tanto perché come sapete la Rockstar Games è abituata a rilasciare veicoli nuovi Con prezzi enormemente esagerati ma per essere una macchina di categoria super di due posti Diciamo che il prezzo può anche andare almeno secondo me Purtroppo non esiste una versione trasformabile nell'officina del nostro zio Benny E la possiamo modificare solo normalmente Io per modificarla bene ho speso ben più di 470.000 dollari per le modifiche E per un totale di più di 1.730.000 dollari spesi Sia per personalizzarla che per comprarla Questa macchina è molto simile alla Progen Tyrus Difatti è ispirata a due veicoli della McLaren Proprio come la Tyrus Stiamo parlando della McLaren F1 e della McLaren F1 GTR E ci sono pure delle parti in questo veicolo super sportivo Ispirate anche alla McLaren F1 LM Lo potete notare benissimo se fate una comparazione tra le due auto del gioco e della realtà Davvero un veicolo molto bello Non so se per le gare è adatta dato che ho registrato abbastanza velocemente il gameplay Perciò fatemelo sempre tra i commenti Però tutto sommato dalle guide che ho fatto mi sembra una buona super L'accelerazione non è niente male Ha una velocità veramente pazzesca ragazzi E la sua manovrabilità è davvero migliore rispetto alle altre super del gioco Dopo 30-40 secondi da quando avete accelerato Molte super diventano incontrollabili Invece questa è davvero ottima e divertente da usare Vi dico che onestamente preferisco la Progen P1 alla X80 Proto Che ha il brutto difetto di essere poco manovrabile E credo che questa Progen sia buona anche per i warride o per gare più complicate Fatemelo comunque sapere tra i commenti Diciamo che si tratta di una Tyrus migliorata a livello di prestazioni E ve la consiglio assolutamente se non siete poveri e avete tanti milioni da spendere Se ne avete pochi chiaramente lasciate perdere e investite quei pochi milioni su qualcos'altro di più utile Ma se invece avete milioni tra virgolette da buttare Allora prendetela assolutamente Vi consiglio di avere almeno 1.400.000 dollari da spendere tra l'acquisto E perlomeno le modifiche per le prestazioni e per lo spoiler Ovviamente questo prezzo che vi ho consigliato non per forza si riferisce al miglioramento dell'estetica Principalmente mi riferisco alle prestazioni Se volete usare al meglio questa Progen P1 nelle gare Soprattutto quelle stand Comunque davvero una bellissima auto Staremo a vedere se le altre saranno migliori o meno A me piace davvero un botto la sua estetica Molto semplice, molto old school Però fantastica a mio parere esteticamente Poi ovviamente ha anche uno stile che potrebbe non piacere a tante persone Chiaramente qui parliamo di gusti Perciò ragazzi se volete sapere la mia opinione Compratela Io ve la consiglio Per una volta insomma vi consiglio di acquistare un'auto costosa Perché alla fine insomma diciamocelo È costosa Però per essere una super non costa nemmeno tanto Soprattutto per essere una super che è stata aggiunta recentemente Riguardo il DLC insomma ragazzi La Rockstar ha aggiunto nuove gare stand Con i tre veicoli speciali annunciati Ovvero la Rocket Voltic La Blazer Acqua E la Riner 2000 E da quanto ho capito Anche se non ne sono sicuro I vecchi contenuti che prima erano disponibili Solo per chi passava da Old Gen a Next Gen Adesso invece sono disponibili per tutti E sto parlando della Duke Odeff Della Dodo e della Marshall Anche se ripeto Non ne sono sicuro Perché la Duke Odeff non l'ho trovata E la Marshall l'ho sempre avuto da parecchio tempo Sempre sul sito Warstock Ace Carry Per il resto non c'è niente Il creatore ancora non è uscito E a quanto pare sicuramente verrà rilasciato il mese prossimo Riguardo altri veicoli che arriveranno Ho notato che vari modders hanno già sgamato I prossimi veicoli Che verranno rilasciati in queste settimane Una volta sempre a settimana di martedì Classico giorno in cui la Rockstar rilascia nuove auto Però vi dico che sicuramente Vi porterò un gameplay di questi altri tre veicoli in arrivo Dato che sono uscite un sacco di robe Tutte molto interessanti Perciò niente ragazzi Al solito vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su Grazie a tutti quelli che cliccheranno Quel mitico bottone blu Al solito se volete seguitemi su vari social Ed infine iscrivetevi al canale Se non lo trovate a trovare Contenuti da ZWheelX È tutto Ci sentiamo Al prossimo video Io ho giocato 30 euro Alle macchinette Vanno, vanno, vanno Vanno, vanno